Il GIP del Tribunale di Lecce ha disposto nei confronti di un giovane di 38 anni di presiccia acquarica la misura cautelare del divieto d'avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna, mantenendo una distanza di almeno 200 metri dei luoghi frequentati dalla stessa, evitandogli di comunicare con qualsiasi mezzo telefonico o telematico. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è giunta all'epilogo di una delicata attività investigativa che ha tratto origine da una telefonata giunta nello scorso mese di maggio sulla linea del 113 da parte proprio della vittima che chiedeva aiuto dopo essere stata picchiata dal compagno con il manico di una scopa. Dalle dichiarazioni della ragazza e dei testimoni è venuta fuori una vicenda in cui sono emersi gli atteggiamenti violenti e possessivi dell'indagato nei confronti della propria compagna, la quale era costretta addirittura ad usare il telefono del compagno per poter comunicare con gli amici o con i parenti. Una relazione è durata 18 mesi, contrassegnata però da ripetuti allontanamenti e ritorni da parte della donna che, nonostante le violenze subite, non ha inteso sporgere querela. dimostrando la totale assenza di asti o volontà punitiva nei confronti del compagno, al quale è rimasta paradossalmente legata. La continuità e la costanza del porre in essere i comportamenti in danno della donna hanno fatto scattare le procedure del Codice Rosso che ha indotto il GIP su richiesta della Procura della Repubblica all'emissione della misura per divieto di avvicinamento.